BeLive, io questo strumento di live non lo conosco, però stavamo parlando sul forum GT nella nuova sezione live streaming con Elena Caigri.com di questo servizio e l'ho detto senti ce la fai una panoramica veloce, proprio panoramica leggerissima di quello che è questo servizio perché io avevo fatto il video su StreamYard e lei gentilmente l'ho fatto, l'ha messo sul forum, ho chiesto il permesso e quindi sto caricando il video, vi lascio con lei dicendovi che mi piacerebbe portarvi più contributi di altre persone all'interno di Fast Forward quindi se avete idee contattatemi perché mi piacerebbe fare questa cosa, vi lascio con Elena Ciao a tutti, io sono Elena, sono Caigri.com sul forum di Giorgio Tave e sono uno sviluppatore Ultimamente dopo la nuova sezione sul forum ho nominato spesso BeLive che potete digitare e trovare con scritto proprio Be.live Cos'è BeLive? BeLive è un'app che permette di fare broadcasting e live su Facebook o su YouTube Attualmente con molte personalizzazioni come ad esempio aggiungere il proprio logo vedere chi è in diretta e dare un aspetto più professionale alle proprie dirette Ok, nasce per chi magari fa webinar piuttosto che youtuber e altre tipologie però ad esempio nel mio piccolo io ho un gruppo di circa 100 persone su Facebook dove lo sto usando sostanzialmente per i learning per un settore che sono le farmacie per imparare il web e devo essere sincera, mi sta dando grandi soddisfazioni anche perché il ritardo di trasmissione è veramente molto basso Quali sono le funzionalità di BeLive e i prezzi? BeLive l'ho conosciuto perché qualche tempo fa era un lifetime deals Io purtroppo come una... ai tempi non mi serviva quindi non l'ho nemmeno comprato infatti ora lo sto pagando al prezzo intero Sostanzialmente ci sono due piani Il primo piano, come dicevo, è gratuito ed è gratis per sempre Potete fare appunto tre... qui li chiama show diretti al mese Scegliere tra i temi, selezionare i colori del brand e far partecipare in pratica due persone Ad esempio se dovete fare tipo un'intervista Poi c'è questo piano a pagamento che si chiama Standard Plus dove potete fare tutti gli show che volete aggiungere il tuo logo personalizzare praticamente il player e il... appunto il design e puoi invitare più di quattro persone alla diretta Prossimamente infatti non è attivo Si può mettere anche il multicamera e il simulcast Un grande dettaglio Attualmente il broadcasting su BeLive non è simultaneo tra Facebook e YouTube cioè o selezionate di andare in onda su Facebook o su YouTube non insieme Questa può essere una cosa limitante ma dall'altro canto insomma dipende un po' come sia impostata la propria... la propria performance Andiamo a vedere un po' le caratteristiche tecniche con la differenza tra i vari piani che comunque sono sempre a vostra disposizione appunto sul sito Be.live All'inizio era difficile trovarlo Tra l'altro possiamo vedere che c'è anche la possibilità di fare le dirette su Twitch e LinkedIn anche questi sono in coming soon Il costo mensile comunque è di 25 dollari al mese che sono all'incirca 22-23 euro Lo trovo un prezzo molto accessibile anche perché in confronto alla concorrenza i prezzi sono decisamente superiori si parte comunque da un meno 40 dollari al mese Ora vi faccio vedere un po' come funziona e non vi spaventate ci sono anch'io Io sono già loggata e questo è sostanzialmente il mio account Vi ricordo che avete comunque una trial per 14 giorni gratuiti Ciao a tutti Allora, prima di andare sul tecnico sul tecnico come vedete qui appare il logo Be.live Qui con un piano a pagamento potete inserire il vostro logo come vedete studio 2 try now e potete comunque dare degli effetti in base a quello che più vi serve Ad esempio se hai bisogno di aggiungere un visitatore o comunque non so dovete fare un'intervista a un vostro amico piuttosto che una persona dovete cliccare su Ad Guest Cliccando su Share Screen ovviamente condividerete lo screen Qui invece aggiungendo Ad Media potete sia caricare non so, un PDF, un PowerPoint o qualsiasi cosa che dovete condividere ma la cosa più importante che a me è veramente piaciuta subito anche se io non sono cioè non è una funzione che uso è questa che si chiama se è interessato al live shopping cosa succede? Avete presente tipo in televisione quando dovete comprare i famosi coltelli della Miracle Blade e vi passa praticamente in sovraimpressione ora non so se vuoi vedere il mio mouse in sovraimpressione la scritta tipo per acquistare subito la mega offerta sul prodotto sui nostri Miracle Blade chiamo oppure vai al link www.taldetali.it praticamente vi esce questa barra fissa proprio da televisione si può dire in sovraimpressione è veramente una cosa molto carina l'ho vista fare nel gruppo Facebook dedicato proprio a BeLive è una figata pazzesca mi sa molto di TV però è simpatica dai e qui potete mettere anche il testo o un screen ad esempio se io voglio scrivervi ciao clicca qui e anche un crawler in New Agenda potete se voi per esempio registrate prima la diretta e poi volete andare in onda potete mettere anche non so al minuto 3.40 uscire questo testo in sovraimpressione oppure ricordare di una cosa in particolare è una cosa veramente molto carina qui invece potete combinare la vostra cornice la vostra diretta ad esempio qui vi fa vedere gli effetti vedete stream preview con il vostro logo questo con tutti i simboletti qua c'è bisogno della versione premium l'overlay se volete qualche cornice appunto un pochetto più carina sfiziosa ce ne sono veramente tante e infine background se volete un qualcosa di più naturale e se avete la camera in disordine tipo adesso io quindi sarebbe una funzione che a me andrebbe molto 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 bene tra l'altro la cosa che mi piace è che hanno una community molto molto attiva soprattutto su Facebook l'assistenza è veramente ottima a rispondere alle domande di tutti e dimenticavo che potete stare anche qui la chat la potete integrare addirittura su Facebook per fare una diretta ad esempio dovete selezionare la destinazione scegliere YouTube o Facebook o come vi dicevo prima potete registrarvi e poi lo mandate in onda all'orario che dite voi potete anche tutto programmare da qui sui gruppi Facebook bisogna installare un'app sul gruppo io ci ho messo veramente due minuti a farlo e ora non vi ricomparirà la pagina aspettate un attimo qui non l'ho installato basta seguire praticamente le istruzioni semplicissimo da un aspetto professionale io ve lo consiglio veramente tanto anche proprio per un fattore di immagine non è chissà che cosa però comunque sono quelle accortezze che magari fa cambiare idea ai vostri clienti io vi saluto e spero di aver fatto una cosa carina e che vi sia utile vi aspetto sul forum di Giorgio Tavi se volete consiglio e quant'altro ciao bene perfetto in descrizione trovate il link alla sezione e il link poi ad altre cose per quanto riguarda il live streaming noi ci vediamo con il prossimo video grazie a tutti